salernitana sassuolo 3 a 0 la salernitana vince contro il sassuolo giocando in casa quindi in quel di salerno riesce nella impresa va a gonfievere un impegno costante che sta dando buoni frutti ne è un caso evidente la partita di oggi 22 aprile 2023 a segnare i tre gol per la salernitana sono stati nell'ordine lorenzo pirora il primo gol il secondo a firma di bulayeria il terzo ed ultimo a firma di lassana culibari allora quindi due gol nel primo tempo un gol l'ultimo nel secondo tempo la partita andando a vedere le statistiche riportate qua sul web sembrano parlare in una maniera abbastanza chiamiamola divisa perché abbiamo il possesso di palla maggiore per il per il sassuolo più passaggi per il sassuolo ma al tempo stesso una previsione passaggi del sassuolo rispetto alla salernitana ecco le statistiche tradiscono il risultato che c'è stato ossia la vittoria della salernitana sul sassuolo di conseguenza posso affermare con certezza che le statistiche molto spesso i volentieri non coincidono non combaciano con la capacità di gioco delle squadre di calcio bene vi ringrazio per l'ascolto e per la visione ovviamente mi riferisco alludo quindi alle suoi di calcio che si trovano a giocare a scontrarsi tra di loro ciao ciao ciao